Benvenuti su TR24 Sport. È già tempo di voltare pagina per l'unieuro for lì. La sconfitta nella gara 5 di Scafatti è ancora bruciante, ma adesso i biancorossi si devono preparare alla nuova serie play-out, quella che incomincerà domani sera, domenica sera a Chieti. Sentiamo allora Coach Valli. Complimenti a Scafatti perché ovviamente la squadra da play-off si ritrova per una serie di situazioni che non conosco coinvolte nei play-out. Toccato a noi, siamo arrivati alla quinta, siamo contenti della qualità del gioco espresso in questa serie, non siamo ovviamente contenti del risultato, però ci aspetto un'altra durissima serie, comincia già fra 4 giorni a Chieti, però non posso recriminare niente, non posso dire niente alla mia squadra, hanno fatto una vera partita clamorosa anche stasera, ci è mancato il tiro da fuori, questo lo sappiamo, purtroppo è un po' il nostro tallone da kill e a cavallo dei due quarti abbiamo fatto purtroppo solo 1 su 13, mi sembra, da 3 punti e questo ha condizionato il risultato, dopo sotto l'abili energia di un giocatore che è fuori categoria come la Imi, devo dire che un ottimo giocatore, una brava persona, è venuto nello spogliatoio, si è complimentato con i ragazzi nostri e ovviamente già da domenica dobbiamo mettere a frutto questa esperienza accumulata nella serie con Scafatti, dovrebbero essere ancora più bravi per cercare di dare ancora di più la palla dentro ai nostri lunghi, per coinvolgerli, perché sappiamo un po' e ripeto che il nostro tallone da kill è il tiro da 3 punti, quindi non possiamo affidarci a quello. Virtus e Fortitudo invece stanno preparando le sfide dei quarti di finale contro Rosetto e Treviso, bianconieri che beneficiano dell'eliminazione di Biella per avere la certezza del vantaggio del fattore campo nell'eventuale semifinale all'Aquila, servirà invece l'impresa contro la vincitrice della regular season. Il colpaccio di Verona Biella che ha tolto di mezzo la vincitrice della regular season a ovest, oltre a proporre la Tezenis come mina vagante tutto sommato attesa dei play-off, dà alla Virtus la certezza del fattore campo fino all'eventuale semifinale, ma soprattutto conferma come sia meglio non fare calcoli in questa post-season. La tentazione, già respinta, potrebbe colpire proprio la sega freddo che contro Rosetto parte nettamente favorita. Non la fortitudo, attesa a Treviso da un'avversaria fortissima, eppure per molti osservatori non attrezzata ad arrivare fino in fondo, nonostante il successo in regular season e la miglior difesa del campionato. Non sarà facile però vincerne uno al Palaverde dove l'anno scorso i bianco-blu riuscirono a passare lanciandosi verso la finale. Comunque, una serie che si preannuncia lunga e potenzialmente decisiva. La Virtus dall'altra parte del tabellone attende Rosetto con l'obiettivo di ritagliarsi qualcosa di più comodo rispetto alla sofferenza contro Casale. Vedendo adesso la strada aperta per la finale, col fattore campo si spera decisivo, anche se chi passa con gli abruzzesi pesca una fra Verona e Ravenna, e non sarà comunque semplice. Occhio a Rosetto ancora, che nonostante il pedigree da grande attacco ha vinto con Legnano sempre sotto i 70 punti. Attesa la risonanza di Spisso, dopo che l'ecografia ha escluso guai seri. Se va male salta la prima o le prime due, ma poi dovrebbe essere urolabile. Parliamo adesso di calcio a 5. È una M a gruppo dalle nove vite, quella che alla palla cercola ha rischiato addirittura di aggiudicarsi la serie contro Napoli e qualificarsi così alle semifinali Scudetto. Gara 2 ha visto la corazzata partenopea da prima scappare via sul 4-1, salvo subire poi una grande rimonta di Imola, che si portava sul 5-4. La rete nel finale di Crema rimandava però ogni verdetto a gara 3, con le squadre che scenderanno in campo domani sera alle ore 20, ancora alla pala cercola di Napoli. Per quanto riguarda invece il motociclismo, da oggi si fa sul serio all'autodromo di Imola con la disputa delle prime prove libere sul circuito romagnolo. È infatti iniziato il grande weekend della Superbike, con gara 1 che andrà in scena domani e gara 2 domenica. Grande è l'attesa per vedere in azione le Ducati di Marco Melandri e Chaz Davies. Vediamo. Che Ducati sarà al Gran Premio di Imola? La casa di Borgo Panigale sembra avere tutte le intenzioni di giocarsela alla pari con la Kawasaki, in quello che sarà a tutti gli effetti il Gran Premio di casa. Ma in passato abbiamo fatto tante belle gare e ci ha aiutato. È una pista amica e vicina a casa, quindi sicuramente per noi è doppiamente importante perché è la tappa di casa, abbiamo tanti ducatisti che ci verranno a sostenere e quindi vogliamo mandarle a casa contenti. Quindi non solo per noi ma anche per loro cercheremo di fare un weekend emozionante. Oltre al profeta in patria Marco Melandri, toccherà anche a Chaz Davies il compito di insidiare il trono del favoritissimo Jonathan Ray. Sì, Imola è sempre speciale, è una gara molto importante per me e anche per Ducati. Io voglio fare i risultati, tutto il tifo, anche tutta la gente di Ducati merito. È importante stare con una pelota come Marco, una pelota forte, anche una pelota che lui è buona per sviluppare la moto. È molto importante per me, ha un compagno di squadra forte. Seconda giornata della fase 2 del massimo campionato di baseball con Stammarino che farà visita a Nettuno e Rimini che ospita Parma. I campioni d'Italia della Fortitudo Bologna se la vedranno con Novara schierando anche l'ultimo arrivato Raul Rivero in servizio. Vigilia di partita per la Fortitudo Unipolsai in campo contro Novara per la seconda giornata della seconda fase del campionato IBL. Una novità sul fronte della squadra per i bianco-blu che ritrovano il lanciatore Raul Rivero, arrivato ieri in città e salutano Ramon Garcia che ha disputato tre gare ufficiali. Rientrerà invece tra una settimana il ricevitore Marco Sabattani in recupero da un infortunio. Il mio rientro è previsto a breve, la prossima settimana. Novara di sicuro è una squadra totalmente diversa dall'anno scorso. È già una squadra che si è piazzata a metà classifica, non è più il fanalino di coda. Si sono rinforzati molto bene sia dal lato degli stranieri che dal lato degli italiani. Quindi saranno due partite combattute. La Fortitudo come sta? C'è una squadra abbastanza nuova, c'è anche un nuovo capitano. Che gruppo siete? Il gruppo è sempre, diciamo che è il gruppo dell'89, come ci chiama Frignani. Se abbiamo cambiato capitano è subentrato Alessandro Vaglio che ha preso in mano lo scettro, abbastanza importante. È un gruppo solido, molti dei giocatori, i miei compagni li ho incontrati, li ho iniziati a incontrare il 2007, quindi è metà squadra nazionale che ha vinto gli europei nel 2007. Passiamo adesso a vedere anche le notizie che sono riportate sui quotidiani, ovviamente di carattere sportivo. Ci affacciamo dunque sulla Corriere di Romagna per scoprire come la Superbike abbia riscoperto Imola come capitale dei motori. Oggi le prime prove di un weekend che promette un grande spettacolo. Melandri e Salvadori provano a stupire contro i cannibali Chas Davis e Jonathan Ray. Questo per quanto riguarda il motociclismo, ma parliamo anche di basket, con Ravenna che giocherà a Faenza contro Verona. È dunque arrivata l'ufficialità della nuova sede per quanto riguarda i quarti di finale di playoff di Serie A2. Ma cambiamo testata. Andiamo a vedere anche il resto del Carlino. Si parla di una notizia di mercato che in questo caso coinvolge non un giocatore, ma l'ambito tecnico, Antonio Conte. Antonio Conte che è conteso. Nella giorno della probabile festa a Scudetto, l'ex CT Azzurro rassicura il Chelsea. Qui sto bene, voglio restare. Ma Sabatini gli offre 70 milioni in 5 anni. 25 in più di Abramovic. E spera dunque di convincerlo a tornare in Italia nelle fila dell'Inter. Ma si parla proprio di Serie A nell'opinione di Luciano Poggi. Andiamo ad ascoltarla. Archiviata la Champions, ecco che ci si rituffa inevitabilmente sul campionato. Perché il campionato potrebbe dire in questa giornata l'ultima vera parola. E beh, certo. Perché c'è Roma-Juventus. L'incontro tanto atteso che, a mio avviso però, è un incontro che non dirà assolutamente nulla. Perché ormai sapete che da tanto tempo la mia opinione è che la Juventus, lo Scudetto, l'ha già vinto e l'ha già vinto. Da, forse, diciamo, dall'inizio di questo campionato. Beh, allora, su che cosa ci si può concentrare? Certamente sull'incontro che vedrà opposti Atalanta e Milan. Lì sì che ci sono punti importanti. Perché il Milan è l'ultima squadra delle italiane che potrebbe, potrebbe, uso il condizionale. Ma è chiaro che essendo l'assi di Juventus già in finale di Coppa Italia, questo condizionale dovrebbe essere comunque immediatamente rimosso. Potrebbe entrare nella lista per disputare una Coppa europea. In lista c'è anche l'Inter, l'Inter che ha cambiato allenatore. Anche qui, beh, la mia opinione, io avrei finito il campionato con Pioli e non avrei assolutamente cambiato nulla. In questa ridda di situazioni da chiarire c'è solo che la Juventus, il sesto Scudetto, ce l'ha già in tasca. Roma o non Roma. È tutto per quanto riguarda questa edizione di TR24 Sport. Grazie per averci seguito. Arrivederci.